allora ciao ragazzi ciao a tutti allora tantissimi messaggi ieri per quello scontrino di 13 euro purtroppo non è uscito ma lo rigiocherò lo rigiocherò chi non risica non rosica e bisogna provare allora tantissimi messaggi anche ieri sera di ringraziamento per le previsioni che vi regalo io ringrazio voi per seguirmi e qualche messaggio come sempre che ormai non rispondo neanche più perché alle 8 e 10 il classico messaggio non è uscito niente si rigioca eppure qua è scritto bene evidenza sette colpi ieri questo era un primo colpo io penso proprio di sì forse però nei video non mi spiego bene comunque queste si continuano sette colpi adesso sono sei va bene è un ambo è un terno da giocare perciò penso che sono accessibili a tutti molti però seguendo i miei video poi mi mandano il messaggio e mi dicono ho fatto una cavolata perché per seguire quello che tu posti su youtube non ho giocato il metodo il metodo che ho acquistato e ho perso l'ambo allora io lo ripeto le previsioni che posto qua su youtube a meno che non c'è un ambo allora uno dice vabbè uno si può giocare l'ambo si può giocare ma ho sempre detto che chi ha i metodi chi ha acquistato i metodi deve giocare i metodi se no non avrebbe senso che ha comprato il metodo non avrebbe nessun senso ok metodo dell'ambo garantito firenze 4 e 49 ovviamente a me gli scontrini mi arrivano sulla mia pagina questa è la mia pagina facebook ufficiale 40 sfumature di lotto gruppo ufficiale ok lo trovate non vi scrivete su gruppo abbonati gruppo questo è l'unico gruppo ufficiale lo vedete perché ci sono 1200 persone se non vado errato vabbè e qua io posto a parte che postare le previsioni dei metodi che ho regalato anche a voi ma posto anche tutti gli scontrini vedete 4 44 49 89 firenze genova fieri firenze metodo dell'ambo garantito 4 e 49 vedete io li posto sono qua metodo ripetente 9 31 36 63 36 e 63 e se usciva quella figura 9 tanto attesa questo era terno andiamo avanti ancora firenze genova questo il 49 65 che ho fatto vedere qualche video fa non dando le ruote sempre su firenze noi quando vinciamo vinciamo tutto su firenze 4 e 65 bari nazionali 31 36 63 vedete i miei metodi fanno giocare tre numeri non mi fanno giocare 17 numeri quando io vi dico ragazzi le previsioni che posto le previsioni che posto su youtube sono per le persone che giustamente per loro scelta visto che per fortuna siamo ancora liberi di scegliere non hanno i metodi ed è giusto anche che do qualcosa gratis a loro ma chi ha comprato questi due metodi bisogna che li gioca perché se poi non gioca i metodi che ha comprato e gioca le previsioni che io regalo su youtube è normale che poi si perde le vincite è normale questi sono fatti per giocare se no è inutile che si acquistano cioè se avete intenzione di giocare le previsioni che posto su youtube io ve lo dico per voi non acquistate i metodi perché è uno spreco di denaro i numeri ve li do gratis però ovviamente chi ha questo metodo questo è il risultato e rispondo anche a qualcuno che oggi mi ha mandato un messaggio dicendo ma a volte vedo scontrini fantomatici sulla mia pagina facebook assolutamente no perché quando mi arrivano gli scontrini io li posto se c'è l'estrazione che non si vince io non posto niente non mi invento nessun scontrino fantomatico perché non sarebbe giusto ci perderei la faccia perciò allora adesso tanto chi vuole iscriversi qua si può iscrivere tranquillamente questi sono i due capolavori con questi ragazzi ovviamente io vi do una mano ogni tanto vi posto una previsione di questo metodo sperando di andare subito in casa ma ci vanno sempre i suoi colpi prestabiliti assolutamente quando c'è lambo da giocare a colpo ve lo dico io quando ci sono delle previsioni ben prestabilite con dei metodi miei vanno vi scrivo sette colpi di gioco ok perciò queste sono le previsioni che si porteranno avanti giocabili a tutti un ambo e una terzina chi ha questi metodi mi raccomando sa quello che deve giocare lo sa perché ormai l'ho spiegato 3000 volte a chi i metodi chi è interessato a questi metodi mi manda un messaggio su whatsapp e io sono ben lieto di spiegargli come si fa ad acquistare allora ieri 4 e 49 è stata l'unica vincita per quello che è 36 63 per quello che riguarda i metodi che ho per quanto riguarda le previsioni che ho postato ieri vedete non è uscito nulla perciò ovviamente qualcuno ha preso questo 2 e 4 su tutto perché come spiego io quando trovate il 2 in quinta posizione sicuramente il 2 uscirà molti hanno fatto la semplice somma 2 più 2 4 hanno rimesso in gioco il 2 e oltre il 2 a cagliari a colpo le stazioni dopo firenze 2 e 4 ambo su tutte eccola qua 2 e 4 su tutte va bene ragazzi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi sulla mia pagina perché ci divertiamo faccio anche delle live interessanti al prossimo video ciao ragazzi